Innanzitutto buongiorno a tutti, anche se credo che già tanti di noi si siano salutati. Il tema di queste conferenze stampa è a nostro avviso importante per raccontare un po' il senso della riforma e come questa riforma viene interpretata e gestita dalle singole aziende. Raccontare insieme all'assessore vicepresidente Sattamartini, al sottosegretario Salvi, al dipartimento, ad Arsa, anche tutte le iniziative che stiamo mettendo in campo per dare maggiore consapevolezza. Nell'intervista qua fuori facevo l'esempio del tema dell'accordo che ha portato poi alla farmacia dei servizi. Risultati importanti che possono essere utili anche a creare comunque un impatto sui pronti soccorso positivo, un impatto sulla lista di attesa positivo, che però magari potrebbe essere valorizzato dal punto di vista della comunicazione per renderlo patrimonio comune e per farlo diventare anche poi nel territorio, nei professionisti e negli utenti un'opzione, un'opportunità percorribile. Credo che su questo, ho fatto l'esempio della farmacia dei servizi ma potrebbero essere tanti gli esempi che possono essere portati, credo che su questo bisogna impegnarsi sempre di più e poi impegnarsi sempre di più anche a rendere patrimonio comune quella che è la strategia che stiamo percorrendo. Prima la strategia legislativa e amministrativa, oggi la strategia gestionale, perché c'è la legge, c'è l'atto amministrativo ma c'è la gestione. Per far capire e comprendere a tutto il sistema quello che il direttore e la direzione delle singole aziende stanno facendo possa essere importante anche per far comprendere quando gli effetti positivi potranno verificarsi, come potranno verificarsi e il ruolo che ognuno di noi può e deve avere sul raggiungimento degli effetti positivi. Quindi io non vado oltre, do la parola al vicepresidente che illustrerà poi l'argomento della conferenza stampa e poi a seguire il sottosanitario e il direttore. Grazie Presidente, mi pare che è una conferenza stampa quindi dobbiamo presentare il piano dell'azienda sanitaria territoriale di Ancona che è una delle aziende più importanti. Io naturalmente devo partire dal percorso che è stato fatto, quello della riforma che ha istituito le cinque aziende, la predisposizione del piano socio-sanitario che è stato approvato il 9 agosto, la nomina dello staff completo del quadro dirigenziale e quindi a questo punto il percorso che ci porterà secondo i programmi ministeriali della nostra regione a garantire i livelli fondamentali e i servizi sanitari che sono necessari ai nostri cittadini. Prima di addentrarmi nel merito mi permetto di fare due osservazioni. Nel mondo i servizi sanitari più avanzati sono quelli dei paesi del nord Europa, sono servizi che però richiedono e sono finanziati con una tassazione elevatissima. I cittadini dei paesi del nord Europa accettano quindi una tassazione elevatissima in cambio di servizi, diciamo così, molto strutturali. Nell'Europa continentale, quindi l'Unione Europea, vigono delle politiche sanitarie che sono finanziate con le possibilità che i singoli stati hanno. Quindi il nostro paese ha una possibilità molto limitata. Lo ricordo dal 2012, dalla caduta del governo Bellusconi e la nomina del governo Monti c'è stata una potatura di 45 miliardi e per la prima volta la legge finanziaria che è stata approvata a dicembre, la legge finanziaria 2024, il governo ha aumentato il fondo di 3 miliardi. Questo lo voglio dire perché è un segnale nel piano triennale molto importante che naturalmente mette il segno positivo su questa questione che ha anche addentellati politici evidentemente di valutazione dell'importanza del servizio sanitario. La seconda questione riguarda la carenza strutturale di medici e infermieri. Ho già detto in una breve domanda in conferenza stampa. Quello che succede oggi è il frutto delle politiche di dieci anni fa. Che cosa è successo dieci anni fa? È stato inserito il numero chiuso a medicina. Il nostro paese non finanziava le borse di specializzazione per intero. La conseguenza è che 25 mila medici formati in Italia, pagati con le tasse degli italiani, lavorano in altri paesi. 25 mila medici. Dal nostro insediamento, anche su input del Presidente Acquaroli, noi abbiamo aumentato le borse di specializzazione per medici di medicina generale e tuttavia il fatto che molti medici possono scegliere le specializzazioni più ambite, fa sì che pur avendo finanziato le borse per la medicina generale, per la medicina d'urgenza, ciò non di meno queste borse sono andate in talunni casi deserte. E quindi si rileva, come è stato più volte osservato, anche dagli studi che la Regione Marche ha richiesto all'Università Politecnica delle Marche e alla Bicocca. Quindi per la prima volta su input sempre del Presidente Acquaroli ci sono dei dati strutturali sulla domanda sanitaria che ognuno di voi può valutare. E dicevo, in base a questi studi, noi abbiamo osservato che c'è un'affluenza abnorme nei pronti soccorsi, soprattutto per codici bianchi e codici verdi. E quindi che cosa stiamo facendo? Sulla carenza dei medici abbiamo aumentato le borse di specializzazione. Per infrenare l'accesso indistinto nei pronti soccorsi abbiamo fatto l'accordo con i medici di medicina generale per rafforzare le cosiddette FT, che sono gli ambulatori funzionali territoriali, cioè gli ambulatori aggregati. Abbiamo fatto l'accordo con le farmacie, farmacie di servizi. La prima è stata presa da Fedespharma come modello a livello nazionale e poi ieri abbiamo inaugurato a Osimo il punto salute e ne apriremo 50 per garantire soprattutto nelle zone interne i servizi più indispensabili. Si valuti che è stato pubblicato l'anno scorso e quest'anno tre rapporti importanti sulla sanità a livello europeo. Uno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e due dall'OSCE. Che cosa evidenzia questi rapporti? Che il Covid ha avuto, sono deceduti per il Covid 50.000 operatori della sanità in Europa. Che la media dei medici in Italia è una media molto alta, il 60% dei medici ha più di 55 anni. Che questo aumento del carico, della pressione lavorativa sul personale sanitario determina un caldo di rendimenti, un aumento delle assenze dal servizio. E' quindi un tema che riguarda tutta l'Europa, non solo i nostri. E poi paradossalmente, lo dico qui per la regione Marchi, un'altra carenza, lo segnalo ai giornalisti che hanno, io credo che nei paesi democratici sia chiaro, la stampa fa il suo lavoro quando mette in evidenza le criticità. E vi dicevo quindi che il paese, che dopo il Giappone e Monte Carlo, ha il più alto indice di invecchiamento, con la conseguenza che aumentano ancora i servizi sanitari, ha il più basso numero di infermieri che curano le criticità nelle abitazioni. E la regione Marchi, anche qui, ha un deficit sulle case di comunità che erano state delineate, non sono mai state realizzate. Le delibere sono nel 2018, Casa della Salute, andate a vedere, ci sono state fatte pochissime. E quindi anche su questo punto, anche per me e dal PNRR, abbiamo fatto e stiamo facendo l'implementazione di questi servizi. Ora, concludo per dirvi che cosa, che la materia della sanità e soprattutto la materia dell'intervento che la regione Marchi ha realizzato in questi anni, vede maturare i frutti, certamente non d'amblè, l'oggi al domani, ma la semina che è stata fatta, è una semina che anche a livello di conferenza delle regioni è molto ben apprezzata. Io martedì sono stato alla conferenza degli assessori e in quella conferenza, ciò che molto spesso non viene detto, si è detto che la regione Marchi è una delle prime cinque regioni in Italia. Quindi quando si parlava di sanità nella conferenza tra assessori, quindi i raddetti, dice però la sanità delle Marchi è tra le prime cinque regioni in Italia. Ed è emerso sempre in questo dibattito con gli assessori il tema di Torrette, primo ospedale d'Italia. Quindi conclusivamente c'è da tener conto che anche stamattina io ho ricevuto dei messaggi su prestazioni, liste d'attesa non garantite, quindi nessuno dice che tutto sta andando bene. Però sostenere esattamente il contrario, che non va bene nulla, che tutto va male, beh questo diciamo così non è una cosa che risponde a verità. Adesso io lascerò naturalmente lo spazio a chi deve intervenire dopo di me, però voglio sottolineare in modo importante come tutti i risultati che potranno arrivare, che stanno arrivando, sono merito delle grandi professionalità, dell'impegno, dei sacrifici delle nostre strutture sanitari, del nostro personale. Un ultimo tema, e questo ancora non ho avuto il tempo di esplicitarlo al Presidente Acquaroli, ma penso che sia importante, quindi ne approfitto per la presenza dei consiglieri regionali, un'ultima questione riguarda le professioni sanitarie. Noi ne abbiamo 24 di professioni sanitarie, in Germania ce ne sono 8. Parcializzare le professioni sanitarie in questo modo significa non poterli impiegare su tutta una serie di questioni, per esempio lo psicologo che si occupa della psichiatria non può essere impiegato in altri tipi di branche. oppure, lo dico sempre, per esempio la scarsa appetibilità della radioterapia nucleare potrebbe essere risolta, e questo ne possiamo parlare con l'università, unificando le specializzazioni in radiologia con la radioterapia nucleare. Cioè ci sono tutta una serie di misure che stiamo mettendo a frutto e che devono coinvolgere naturalmente le università, il consiglio regionale, quindi il potere legislativo, l'organizzazione, quindi il potere amministrativo, il dipartimento e l'Ars. Questo grande lavoro che viene fatto probabilmente non viene percepito, ma vi posso assicurare che non siamo secondi a nessuno. I risultati della regione Benchmark, che probabilmente viene confermata anche quest'anno, sono lì con un giudizio unanime di 20 regioni a testimoniarlo. Grazie. Sono due parole intanto di saluto, poi volevo puntualizzare due aspetti, un aspetto di questo incontro generale, che deve servire anche per riconciliare il cittadino con la sanità, perché effettivamente alcune posizioni della stampa, alcune posizioni anche di personaggi, ha portato a uno scollamento del cittadino dal suo servizio sanitario, e questo anche dai professionisti. È il momento di riconciliare cittadini e professionisti a questa professione che realmente è in grado ed è ad un livello, in particolare nelle Marche, di dare le risposte adeguate. Noi ci metteremo tutto l'impegno per facilitare, per ottimizzare queste risposte. Relativamente ad Ancona, due aspetti volevo sottolineare, poi entrerà nel dettaglio il direttore generale. No, volevo solo dire che notate quanto sarà più importante l'impegno sul territorio. Questa è di una rilevanza incredibile, perché la deospedalizzazione oggi significa salute per i nostri anziani. L'ospedale non è più un luogo sicuro, soprattutto per il paziente anziano. Quindi questo sicuramente darà una svolta importante sulla possibilità di assistere, sulla qualità di vita dei nostri assistiti, in particolare anziani. L'altro aspetto che volevo dire è questa idea che abbiamo perseguito con il Presidente, con l'assessore e poi con le aziende, di istituire un coordinamento interaziendale per l'Ancona, dove insistono tre aziende sanitarie. Il coordinamento ci darà tantissime opportunità di condivisione di risorse, di condivisione di progetti, di lavorare insieme. Quindi questa è una cosa in cui abbiamo creduto e che porteremo avanti con tutto l'entusiasmo e che possiamo e contiamo di avere risultati importanti. Lascio la parola al Direttore che ci illustrerà nei dettagli. Io cercherò di essere per quanto possibile breve, ma le cose sono tante e è opportuno comunque che cerchiamo di essere i più esaustivi possibili su quelle che sono e le difficoltà e le opportunità che abbiamo sulla base di quella che è stata la nuova riforma e sulla base del fatto che noi siamo effettivamente diventati un'azienda e come azienda ci stiamo riorganizzando. Quindi cercherò, andando avanti, è inutile, stiamo parlando con persone che queste cose le conoscono a mena dito, è inutile che ci soffermiamo su quant'è la popolazione, abbiamo un terzo della popolazione praticamente della regione Marche su cui incide la nostra asta. Va bene, qui il territorio, la variabilità e la variabile del territorio che va soprattutto sul territorio, al di là di quelli che sono gli ospedali, ma noi soprattutto dobbiamo dare le risposte anche perché abbiamo anche dei paesi e delle persone che vanno curate in posti disegrati, in posti dove è importante andare e non fare in modo che le persone si muovano e debbano venire per forza all'interno di un ospedale per essere curati e questo lo vedremo andando avanti. Cerchiamo di capire bene di che cosa stiamo parlando, tanti lo sapete ma forse non l'abbiamo mai focalizzato e non si è focalizzato in maniera corretta. Quattro distretti sanitari, vedete che l'ambito di Ancona ancora ci sono tre ambiti e anche su questo si sta ragionando perché bisogna cominciare a considerare che gli ambiti devono andare nella stessa direzione e quindi anche con la regione si sta muovendo e si sta ragionando su queste cose. Quattro case della salute già attive, cioè queste di Chiaravalle, Loreto, Sassoferato e Arcevia già sono strutture che quello che dicevamo per fare una sanità di prossimità, per fare una sanità più vicina al cittadino ci mettono nelle condizioni di poter dare le risposte. Ma guardate bene quel dato che sembra una cosa, sono due numeri ma sono due numeri importanti. Noi abbiamo 107 strutture a gestione diretta, c'è tutto dentro, ci sono i puliambulatori, ci sono i distretti, ma parliamo di 107 strutture che dobbiamo gestire direttamente e ne abbiamo altre 160 strutture confunzionate. E lì ho messo una frase, la rimodulazione della committenza, perché questa regione, al di là di quello che vediamo dopo della riforma, ci sta dando un'opportunità, nel senso che erano anni che si aspettava, ma il fatto che stiamo e faremo, mi sentite bene, scusate, il fatto che, ok, il fatto che faremo degli interpelli per andare a rimettere per dove c'è la committenza, la possibilità ci metterà nelle condizioni di fare un grosso lavoro, a noi soprattutto, perché lì parliamo veramente di tantissime, ma di rimodulare, di fare quello che noi abbiamo bisogno, fare le convenzioni su quello di cui abbiamo effettivamente bisogno e avere il nostro corre su altro, ma decidendolo noi. Fino adesso è stata una deregulation completa, perché è stata non guidata. Oggi ci stanno e abbiamo la possibilità di poter convenzionare, di poter andare in questa direzione e questo deve essere fatto, voi lo sapete, entro fine anno, cioè assolutamente questo percorso lo dobbiamo portare a compimento e sarà una cosa fondamentale per avere delle buone risposte. L'offerta del territorio, va bene, il territorio ha quello che dicevamo prima con il dottor Salvi, gli ospedali riuniti, IRCA insistono sul territorio, le case di cura private, guardate bene quei numeri, come gestione diretta degli ospedali abbiamo bene 884 posti letto, posti residenziali ne abbiamo sempre gestione diretta 358, vedete le somme, ma guardate il numero del privato accreditato, cioè abbiamo 4.327 posti sul privato accreditato che vanno e dovremo andare anche questi con una corretta committenza a dover governare e su questo ne abbiamo già parlato a fondo anche col dottor Salvi, sarebbe il caso di andare a utilizzarli nel modo corretto proprio per dare anche le risposte all'ospedale riunito di Torrette per avere anche uno sbocco sul territorio. Semiridenzialità, qua parliamo dei diurni, sono comunque numeri importanti perché sono gestioni che dobbiamo comunque affrontare anche in questo modo. Guardate bene, ecco, però a questa ci tengo perché quando parliamo di AST la riforma ci ha messo nelle condizioni di essere autonomi, la riforma mi ha messo nelle condizioni di essere responsabile di un budget che mi è stato assegnato, quindi delle risorse che mi sono state assegnate e che devo efficientarli e spendere al meglio, ma l'AST Ancona svolge anche altre funzioni rispetto a quelle della gestione di un AST. La funzione di gestione liquidatoria dell'ex ASUR, gestisce i contratti indivisi, questa è una cosa importantissima stiamo mettendo in pila tutto questo discorso perché per noi è fondamentale, nei interessi di tutte le AST, svolge la funzione di soggetto aggregatore avvalso dei centri d'acquisto di coordinamento di AST e SUAM. Allora, questa è una complicazione che va presa in considerazione e ci deve mettere nelle condizioni di poterla gestire al meglio. Per gestirla al meglio arriviamo alla slide successiva, chiaro che da soli non andiamo da nessuna parte. Io lo ridico, sembra quasi che lo voglio ripetere perché me ne sono convinto. Ho creato una squadra dove nessuno ci ha messo bocca, ma hanno lasciato lo spazio di definire, sulla base di quelle che sono le indicazioni che venivano dal fatto che parte di una graduatoria o meno, la possibilità di scegliere persone che in qualche modo io conoscevo, con le quali avevo lavorato, perché ormai io non vengo dal mondo del pubblico, ma sono 25 anni ormai che lavoro nella sanità e quindi conosco per tanti motivi bene tutto quello e anche le persone con le quali sto collaborando. E mi hanno lasciato completamente campo libero per poter farmi la mia squadra e questa è la squadra che parecchi di voi già conoscono, perché qualcuno è arrivato ultimamente e altri sono arrivati da un paio di mesi, sono arrivato da sei mesi, quindi stiamo cercando di portare, ma oramai la squadra è a bordo. Perché sono in quattro? Per quella cosa che vi ho detto prima, il direttore sanitario è un personaggio che conoscete bene perché ha anche lavorato in regione e comunque è un ruolo fondamentale, il direttore amministrativo, l'avvocato Viozzi, nonché il dottoressa Viozzi, che adesso ha il ruolo di direttore amministrativo, l'ultimo è arrivato, ma anche lui conosce benissimo il sistema, il dottor Mazzieri, come direttore socio-sanitario. Attenzione, direttore sanitario e direttore socio-sanitario sono due persone che lavoreranno a braccetto sul territorio, non più tardi di ieri erano insieme all'incontro con i comitati di partecipazione, perché stiamo facendo un grosso lavoro anche con loro e stiamo cercando di confrontarci costantemente perché la linea di confine, e io sono contento che anche il dottor Sabi non ha parlato e non si è sentito l'integrazione ospedale-territorio, no? Qui ormai ospedale-territorio è una cosa sola, qui abbiamo la necessità di poter avere un ospedale diffuso su tutto il territorio e quindi lavoreranno in stretta collaborazione per dare tutte le risposte. Sonia per Camilli, il delegato alla gestione liquidatoria. Allora, proprio per il motivo che vi ho detto prima, proprio perché non esiste più l'ASUR, e questo vorrei chiarirlo definitivamente, nelle linee guida dell'atto aziendale sul quale stiamo lavorando e già abbiamo cominciato a lavorare in maniera chiaramente fattiva perché, voglio dire, una volta definiti gli ultimi passaggi abbiamo due mesi di tempo per portarlo a bordo, per renderlo operativo, ma l'interesse non è solo della regione, l'interesse è mio perché io per gestire un'azienda di queste dimensioni ho bisogno di avere le pedine al posto giusto e che mi diano le risposte sapendo esattamente chi fa che cosa. Quindi la gestione liquidatoria però è una parte importante e pertanto la dottoressa Pier Camilli si occupa in maniera specifica di quello, poi nella definizione dell'atto aziendale vedremo come andare a ridefinire bene gli incarichi. Però queste sono le persone che mi stanno aiutando con tante altre persone e vedremo quante, a gestire questa che oramai, io lo dico sempre quando parlo di sanità, parlare d'azienda è complicato, ma questa è. Cioè noi oramai dobbiamo utilizzare per gestire un'azienda di queste dimensioni quelli che sono gli strumenti tipici delle aziende. Quindi un occhio per noi fondamentale sul controllo di gestione, stiamo cominciando i percorsi di budget perché anche lì la norma ci dice che entro febbraio, a differenza cioè è inutile fare un budget o dare le schede di budget alle persone per dirgli quello che devono fare e dargli l'ottobre dell'anno successivo. Quindi il nostro obiettivo è di farle entro il primo trimestre e ce la facciamo perché abbiamo cominciato il percorso, ma questo ci permetterà di darle in base alle produzioni, in base alle necessità, ma soprattutto permetterà di farlo in maniera strutturata. Cioè noi non possiamo permetterci con i numeri che voi avete visto e vedrete ancora di poter andare a rispondere alla persona a chiamata. Siamo noi che dobbiamo anticipare e guidare un'organizzazione in maniera strutturata e il controllo di gestione sarà ed è una funzione fondamentale per poter guidare un sistema come questo. Quindi questa è la cosa di cui vi parlava il dottor Salvi. Per noi è fondamentale. Vi faccio capire una cosa. L'azienda ospedaliera per quanto riguarda l'Aste di Ancona incide per circa su un fatturato di 780-820 milioni di euro che è quello che noi abbiamo come risorse disponibili. Noi 200 milioni non le controlliamo a dovere. Perché? 100 milioni sono i ricoveri che ci vengono e vengono fatti dall'ospedale riuniti e che quindi non possiamo coordinarli. Gestione diretta dei farmaci per altri 50 milioni, stesso valore. Sono una gestione che va coordinata e dobbiamo collaborare per cercare di fare in modo di sapendo che incidono perché la gestione di quello che viene fatto su Torrette poi andando e andando sul nostro territorio va nelle farmacie e va sulla convenzionata. Quindi è a nostro carico e la possibilità di poter fare un ragionamento comune ci permette anche di risparmiare perché tutti sanno che la convenzionata costa di più di una gestione diretta. Quindi con il dottor Saldi stiamo lavorando e stiamo ragionando anche su questo. Abbiamo tutto il piano delle prestazioni che per mille motivi non ci dimentichiamo. Io quando parlo tiro sempre una riga e guardo avanti. Quindi quello che è successo non ci scordiamo che c'è stato il Covid, non ci scordiamo tutte le... non ci scordiamo che oggi però noi abbiamo una visione davanti che ci deve far dire che il piano delle prestazioni però erano dieci anni che non veniva fatto con Torrette. E questa è una cosa fondamentale e non parliamo di briciole e su questo stiamo lavorando alla cremente. E questa possibilità che ci hanno dato e che ci è stata data in questo momento di fare questo gruppo di lavoro con il dottor Saldi che lo coordina ci metterà nelle condizioni di poter efficientare questo sistema. Aiutarci nelle cose che abbiamo detto noi su anche quello che dicevamo prima vedere come mettere nelle condizioni anche Torrette di avere dei ricoveri che siano appropriati e noi prendere anche delle produzioni dei ricoveri che in qualche modo siano più adeguati al nostro standard e Torrette farne altri. Cioè la collaborazione è fondamentale. Il Presidente della prima volta che mi ha detto ricordati che il tuo risultato non sarà valutato se non in funzione del risultato complessivo e questa è una cosa fondamentale per noi. Cioè nel senso che dobbiamo fare sistema. Il sistema c'è e sono convinto che questo è uno dei modi. Parlo di Torrette ma qua dentro c'è anche rapporto con l'IRCA. Però la cosa più pesante sapete tutti quanti che quindi è questa collaborazione con Torrette. Vado avanti. Migliorare va bene questa è la mission. Qui vado velocemente perché qui sono principi che non ci mancherebbe altro però ne voglio mettere che non ci siano livelli di assistenza e ci mancherebbe. Però la variabilizzazione della professionale dei operatori. Il clima aziendale. Eh no questo invece io farei un attimo una riflessione perché sul clima aziendale se le cose non vanno spesso è anche colpa nostra. Spesso ci iscriviamo troppo. Spesso lavoriamo a compartimenti stagni. Spesso 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 io sto mettendomi intorno tutte persone che prima di fare un passo o decidere qualcosa ascoltano. Perché poi questo è anche uno dei nostri compiti. Quindi su questo faremo la formazione. Stiamo facendo tutto ma soprattutto ci vogliono le persone adatte per poter andare nella direzione di creare un clima aziendale migliore. Servire partenza o medicina territoriale. Va bene. Questo ci mancherebbe. Equità degli accessi. Digitalizzazione dei processi aziendali. Va bene. Siamo partiti da due mesi con le determine digitali. Fortunatamente non vediamo più tutta quella benedetta carta che gira ma abbiamo quindi la possibilità di poter... qui c'è un altro sogno che sicuramente porterò avanti. Il sistema delle determini digitali sarà collegato questo viene dai miei ricordi passati ma è importantissimo a quelli che saranno i dati del controllo di gestione. Quindi il fatto di fare una determina con degli impegni di spesa precisi sarà collegato e dovrà essere collegato al controllo di gestione che mi metterà in automatico di sapere quanto abbiamo speso e tenere sotto controllo la spesa. Perché ad oggi su questo stiamo ancora lavorando. Tutto quello che possiamo fare in questo percorso è c'è e ci sono gli strumenti semplici anche per poterlo fare. Noi sicuramente li utilizzeremo. E ci ho le persone adatte per farlo. Questo è fondamentale. Equità degli accessi. Va bene. Digitalizzazione dei processi aziendali. L'abbiamo detto. Trasparenza nei confronti dei cittadini. Va bene. Gli enti del terzo settore. Abbiamo fatto tre incontri in cinque mesi. quindi per me è fondamentale la collaborazione con loro. L'ultimo è stato fatto ieri. Questo percorso di autorizzazione e accreditamento mi preoccupa non poco anche come responsabile dell'81 che significa che per settembre dobbiamo aver messo a posto tutte quante le strutture perché le responsabilità non sono da poco. Ma su questo stiamo collaborando in maniera fattiva con la ragione efficientemente l'ho messo qui assessore e presidente e dottor Salvi l'ho messo fra le mission perché per me sono fondamentali cioè l'efficientamento della spesa farmaceutica e quindi quel CISAN è quel gruppo di lavoro che stiamo facendo con Torrette. Ma anche abbiamo fatto proprio è fresca fresca di due giorni fa Aspetto presidente perché mi interessa che questo qui ascolti anche l'assessore. Abbiamo fatto una determina sul progetto del magazzino unico per affidare la progettazione perché per me questo sarà un passaggio fondamentale perché anche lì abbiamo poco, molto poco sotto controllo tutti quelli che sono gli scaduti, tutti quelli che sono i magazzini quindi è un modo per andare. Qui ci vorrà dalla progettazione almeno un paio d'anni ma da subito faremo in modo di partire con invece gli armadetti di reparto che invece è un discorso molto più semplice da fare ci vorranno probabilmente un paio di mesi perché bisogna fare soprattutto formazione però da subito voglio partire con quello perché la farmaceutica deve essere tenuta assolutamente sotto controllo. Rimodulazione della committenza l'ho detta prima. Io scusate penso che ho saltato una slide che mi interessava particolarmente però perché o sono tonto o me l'hanno fatto saltare scusate eh? No però di solito sul personale è quella dopo vero? Ah ok scusate perdono aiuto va bene i primi risultati. Oh qui per rifarci alla complessità del nostro sistema parliamo di un totale complessivo di dipendenti di 4.266 persone parliamo del numero complessivo guardate però bene bene quei numeri perché quindi qui dico non mi prendo merito di niente ma bisogna poi ragionare su questi dati ci sono solamente 385 amministrativi che significa che sono circa l'8 per cento. Lo standard a livello nazionale dei dei degli amministrativi rispetto a sistema sanità è intorno dal 15 al 20 per cento. Quindi questo significa che comunque io non dico che siamo pochi per un motivo solo tant'è vero che tutte le assunzioni che sto facendo lo vedremo dopo le sto facendo sulla parte sanitaria e su quello la verità che eh ho il mezzo e gli strumenti e il tetto di spesa sufficiente per poterle fare. Qui sono un po' fermo perché in un atto di organizzazione siccome nella costruzione dell'atta aziendale stiamo ridifenendo i percorsi, stiamo ridifenendo il fatto che con strumenti nuovi digitali possiamo lavorare diversamente, stiamo ridifenendo il fatto che ehm io sto cambiando anche le funzioni all'interno delle singole unità e questo è importante perché chi fa un lavoro e chi segue un processo deve eseguirlo dall'inizio alla fine e spesso invece noi siamo parcellizzati. Però le 385 persone sono un numero conguro perché io venivo quando sono stato nel 2014 solo in area vasta mi ricordo ce n'erano circa 700 quindi voglio dire su questo c'è un lavoro su cui focalizzarsi. Abbiamo però invece una parte importante sul ruolo tecnico sono altre 400 persone, le altre sono tutte persone sanitarie, parliamo di autisti, parliamo di ingegneri, parliamo di tutte quelle manutentori, tutte quelle persone che visto che comunque abbiamo anche la possibilità di esternalizzare se devo proprio mettere un pensiero preferisco esternalizzare quelle persone che non persone che della parte chiaramente sanitaria o di altre o di una gestione che deve essere sulla parte sanitaria tanto per essere chiari. Quindi ci stiamo lavorando e operando su questo. Nelle risorse umane, questa è una bella riflessione, siamo un'azienda di donne, Linda ride, però è così. Allora il 71% delle persone, dei dipendenti dell'Ast sono di sesso femminile e questo è un dato che un pochino è rappresentato in tutta la sanità. Però io farei una riflessione, qui non ci sono questi dati, su un'altra cosa, che solo per la parte ATL il 75% di donne stanno in un ruolo apicale, quindi rispetto agli incarichi di struttura complessa, tanto per essere chiari, sono 29 gli incarichi di struttura complessa, il 75% sono ricoperti da donne. Per quanto riguarda la parte sanitaria stiamo intorno al 40%, quindi anche lì si sta andando verso la direzione di andarli a ricoprire in maniera equa, ma penso che non sono persone, non è dire, sono persone effettivamente che hanno delle responsabilità e che stanno dando. Però era un dato che volevo mettere in evidenza e che mi sembrava opportuno, sul quale mi sembrava opportuno poter riflettere. Non riesco a dire che sono meglio di noi, però i dati parlano. Cosa abbiamo fatto nel 2023? E quindi quando ho sentito tutte le polemiche sul tetti di spesa, non tetti di spesa, non ho sentito dall'inizio sulla parte sanitaria, mentre io mi sono messo un peso sulla riorganizzazione amministrativa e me l'ho messo da solo, non ho sentito un freno sulla parte sanitaria per non poter assumere le persone. Non avevamo gli strumenti per farlo. Nonostante non ci fossero gli strumenti adeguati, abbiamo fatto 574 assunzioni, abbiamo stabilizzato, e questo è fondamentale, 162 persone, sia con la Madia, sia con i 18 mesi, quindi preso con il Covid e questo è un risultato non da poco, su 529 cessazioni, cioè certo che, ma comunque il delta è positivo e comunque andiamo verso le stabilizzazioni. Sul personale, quello che ci tenevo, per motivi che dicevo prima, probabilmente il Covid o altro, comunque eravamo fermi nell'assegnazione dei fondi dal 2014, abbiamo concluso due contratti, sia per la dirigenza che per il comparto, che ci hanno permesso di distribuire i fondi a tutti i dirigenti. è stata una cosa chiaramente molto apprezzata, ma siccome abbiamo fatto tante discussioni, abbiamo detto tante cose, il fatto che si siano ritrovati una busta paga più pesante è stato chiaramente ben accetto. potenziamento dell'organico, allora questa è un'altra cosa fondamentale, parliamo di liste, vedremo, di liste d'attesa, parliamo di tutto, ma senza le persone non andiamo da nessuna parte. Il 5, sono scaduti i concorsi, abbiamo fatto allora abbiamo fatto 51 concorsi e stiamo, sono scaduti i 5, hanno risposto più di 600 persone a questi concorsi per assunzione a tempo indeterminato e tutte queste persone saranno messe nelle condizioni di poterci dare le risposte là dove comunque definiremo di poterle mettere, ma non ci sono vincoli su questo perché è difficile, è vero, trovare personale, ma se non proviamo a fare i concorsi questo non era fattibile. Adesso siamo nelle condizioni di poterlo fare. Ci ha voluto un po' di tempo perché c'era bisogno di attivare una piattaforma e tutto il resto. Scusate qua, questo va davanti. Allora vado veloce sull'attività di screening, abbiamo aumentato gli inviti per l'anno 2023, sia sulla servizio uterina, la mamografia, il conoretto ci tengo a dare i dati per lo screening perché sono dati importanti, nel senso che comunque l'attività di inviti è stata costruttiva. Quindi ad aprile, non prima d'aprile, avremo i dati delle adesioni perché non possono venire, perché proprio arrivano in quelle date, ma sicuramente aumenteranno rispetto al 2022, anche per quello che mi dicono la prevenzione, le adesioni a quelli che sono stati maggiori inviti che sono stati fatti. Andando avanti, l'HPV, stesso discorso, qui abbiamo fatto nel 2023 invece qui il dato ce l'abbiamo, ben 11.000 prestazioni in più e questo quindi è fondamentale, quindi proprio attività di citopatologia. Andiamo avanti, l'HPV, stesso discorso, il più 14%. Quindi sullo screening è stato fatto un ottimo lavoro e soprattutto le risposte, queste le abbiamo attese, ma anche le risposte che ci attendiamo dall'altra attività di screening sono fondamentali e saranno sicuramente delle risposte adeguate in aumento. Centro unico originale per la prenatale, lo screening, qui è una cosa che abbiamo preparato, abbiamo già fatto un'inaugurazione a Loreto, quindi ne abbiamo parlato a Loreto, partiremo con lo screening prenatale. Da aprile andremo a fare anche lo screening ai bambini all'interno dell'utero, quindi sarà un'attività che viene fatta, è un fiore all'occhiello in questo momento del nostro territorio e il cure regionale con la diagnosi prenatale è quello che sta gestendo. Abbiamo poco tempo fa fatto l'inaugurazione proprio per metterlo in funzione, ma lo screening partirà e quindi sarà un'altra parte. Attenzione, da aprile sarà obbligatorio per tutti farlo, quindi dobbiamo essere, perché i nuovi LEA lo prevedono. Andiamo avanti. Ok, qui ci sono due dati. Allora, il primo, quello dei ricoveri, è un dato spurio, sembra, dici, vabbè, abbiamo fatto più ricoveri nel 2023, quello è il dato complessivo, però attenzione, a quei più ricoveri che abbiamo fatto, quindi la maggiore produzione corrisponde una decenza media più bassa, quindi passiamo dal 6.1 al 5.9 di decenza media, quindi significa che quei ricoveri comunque non sono stati fatti in maniera inappropriata come messaggio. Per quanto riguarda la mobilità attiva, abbiamo lo stesso recuperato sia in quella interregionale e extraregionale, vado veloce perché poi se c'è qualcosa che non vorrei veramente diventare, le domande non vorrei che poi è ok, i DGR va letto anche insieme a questo dato, cioè sono aumentate anche le attività nelle sale operatorie, quindi siamo passati a più un 2,85% anche nelle sale operatorie. Siamo contenti di questo? No, ma tutta questa attività è legata al fatto che andremo, che andremo comunque a avere, a prendere più infermieri per far lavorare le sale operatorie, a prendere i medici che ci metteranno nelle condizioni di farlo e tutto il resto. Per inciso, vedremo fra i concorsi che stiamo facendo e che stiamo portando avanti, domani viene pubblicato per quanto ci riguarda il concorso di OSS e quindi saremo nelle condizioni di poter andare a prendere personale sociosanitario. Il concorso che è stato fatto da Pesaro invece per gli infermieri, che è un'altra cosa fondamentale, ha avuto 2.500 adesioni, quindi adesioni importanti e entro marzo è concluso anche quello perché anche lì è uno strumento fondamentale per poter in qualche modo dare questa tipologia di risposte e sono arrivati che lì stanno facendo i colloqui. Bene, liste d'attesa, adesso qui vado veloce ma fino a un certo punto, nel senso che l'abbiamo detto, l'abbiamo sentito prima, è certo che non siamo soddisfatti al 100% di tutte le risposte, ma guardate bene, al di là di queste che sono gli impegni e le possibilità che abbiamo avuto con la regione di poter impegnare delle cifre, ma guardate questo dato, noi abbiamo erogato 1.022.000 prestazioni, 1.022.000 prestazioni nella nostra AST e guardate il dato, se parliamo di PNGLA, quindi lascio perdere gli acronimi ma quelle prestazioni essenziali, noi parliamo di un aumento ancora maggiore come percentuale perché arriviamo a 212.700, quindi c'è un incremento ancora maggiore in percentuale, quindi per noi, e addirittura sulla radiologia siamo passati a più 8-2%, attenzione, noi in questo momento l'abbiamo fatto utilizzando quegli strumenti che c'erano possibili, lo scorso anno la regione ci ha messo a disposizione dei soldi che siamo riusciti a spendere tutti, ma la maggior parte li ho spesi sul privato, stiamo facendo un piano di prestazioni dove sto cercando di non far soltanto questo perché la cosa a cui tengo è che le prestazioni siano fatte anche e soprattutto al nostro interno, però comunque il risultato l'abbiamo raggiunto in questo ambito. Che cosa c'è in mezzo alle liste d'attesa? Che stiamo lavorando in maniera e devo dire molto costruttiva con i medici medicina generale perché ci stanno aiutando e stiamo cercando di lavorare con loro sulla proprietà e li incontriamo e li abbiamo incontrati con un gruppo di lavoro che ci abbiamo perché noi abbiamo costituito un gruppo che non si incontra solo una volta a settimana ma lavora costantemente su queste problematiche che al di là del quindi incontrare i medici, confrontarsi e tutto il resto, aumentare quindi l'appropriatezza di quello che facciamo, aumentare l'offerta perché il lavoro che stiamo facendo e soprattutto anche per aumentare l'offerta, c'è in mezzo tutta una variabile di persone che tutti i giorni apposta quando io sento tutte le critiche e le polemiche veramente le gestisco con difficoltà per un motivo solo perché ci stiamo interessando, guardate io faccio un esempio, noi abbiamo fatto a tutto il dipendente ma non soltanto a tutti i dipendenti, senta che ve lo leggete ma anche a tutti i medici medicina generale ma anche a tutte le assurrazioni di volontariato quindi compresi i tribunali del malato e abbiamo dato il referente di questo gruppo perché chiunque abbia dei problemi e ci possa dare delle indicazioni ci metta nelle condizioni di poter in qualche modo poter rispondere e quindi anche volendo partecipare perché per noi è fondamentale perché a volte è vero escono dei buchi nell'agenda, a volte è vero stiamo cercando di mettere tutte le ma le cose se le sappiamo le possiamo gestire, le possiamo recuperare e su questo io devo dire che con la regione, con l'AST abbiamo trovato una collaborazione completa per cercare di portare a casa anche questi risultati fattivi, vogliamo far meglio? Certo che vogliamo far meglio, ci mancherebbe altro. Vado avanti, la roadmap, vado molto veloce qui perché qui conoscerete bene la situazione dell'edilizia sanitaria, attenzione in due anni dobbiamo fare tutte queste cose, qualcuna la dobbiamo fare in tre mesi, qualcuna e andiamo avanti. Case di comunità, ben nove case di comunità e vedete dove, ospedali di comunità, le cotte, le cotte ricordiamoci che dovremo partire entro marzo e siamo tutti, tutto quello che sto facendo vedere sono cose concrete, cioè siamo con tutti nel target e stiamo lavorando in modo di poter dare le risposte e devo dire che anche l'ufficio tecnico sta lavorando in maniera molto effettiva su questo. Quindi queste sono tutte le cotte, vado avanti velocemente, qui abbiamo tutti quanti le cinque cotte perché in Ancona ce ne sono due, vedete lo stato d'avanzamento dei lavori, anche qui siamo sul target, per essere in funzione di necessità di un RE di personale, le persone, questo lo sapete benissimo come è strutturata una cotte, gli ospedali di comunità stesso tipo di discorso, anche su questi siamo nei target, ma qui il target è il 31-12-2025, abbiamo degli step intermedi sui quali stiamo lavorando. sempre le case di comunità, ancora, che è la valle Loreto ancora, ok, oltre a questi che sono gli interventi del PNR, poi abbiamo degli interventi e quelli abbiamo, come ho detto, dei target sulle cotte entro marzo e per tutti gli altri entro il 2025, stiamo perfettamente nei tempi, abbiamo invece tutte le attività che sono rientrate in parte anche nel PNR, però che stiamo svolgendo da qui a breve, pronti soccorso e sono già soldi finanziati questi, cioè sono soldi che abbiamo per poter in qualche modo andare poi a dare queste risposte. Riqualificazione delle, vabbè, interventi hanno sviluppato il progetto definitivo, entro sei mesi verranno approvati i progetti esecutivi e le gare sono già state affidate in Italia, quindi anche su questo è un percorso già avviato e che nel giro, entro l'anno, porteremo a bordo. Poi le grandi apparecchiature, queste sono importanti, queste rientrano anche queste nell'ambito del PNR e le vedete tutto quanto per investimenti di 4 milioni, andate a vedere, guardate bene qua, però andiamo avanti, qui vorrei sciogliere l'ultimo nodo, si è parlato tanto del fatto che non c'era più la possibilità di fare investimenti, noi abbiamo sul, con i fondi del terremoto a Fabriano per la Palazzina abbiamo e ci hanno, investiremo 21 milioni e entro la prossima settimana avremo il progetto esecutivo perché mancavano dei documenti e una volta avuto il progetto esecutivo non avremo nessuna difficoltà a poter, chiaramente, avere il finanziamento e quindi poter dare, dar seguito al progetto. Senigallia stesso discorso era ancora più avanti, la Palazzina è per cento quello che c'è a Fabriano e Senigallia, io vado veloce, allora Assessore perché altrimenti voi mi rimprovera, vado, 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 vado via, va bene, va bene, va bene. Allora, questi, questi fatemelo dire perché ci tengo in maniera particolare. Allora, quella tutta attività legata a TNR la dobbiamo fare, rispettiamo i tempi e poi vedrete quello che Cuba alla fine come investimenti in due anni per questa aste e quindi come impegno. Qui ci sono gli interventi che stiamo invece gestendo, sono la residenza protetta della Casa Rossa, questo onestamente è un impegno che non mi sono preso con nessuno se non con i genitori dei pazienti che questa cosa l'aspettano e l'aspettavano da tempo. Quindi non proprio, e stiamo portando, entro due mesi stiamo finendo i lavori, entro due mesi siamo nelle condizioni di poter partire. Io non lo so, io so che c'è i genitori che ci tengo, Assessore, no, questo sai perché l'ho detto? Perché purtroppo io e lei sull'uno contro uno siamo deboli, nel senso che se mi viene un paziente o mi viene un genitore che ha dei problemi, io poi le risposte qualche volta gliele do anche in maniera emotiva. e non è un niente di male, quindi questo è una cosa che mi appartiene e sarà, però siccome su questo siamo simili penso che mi capisca. Quello l'ho detto, tutto il resto è tutto coordinato, va bene, ma certo che anche questo ci mancherebbe. La residenza protetta di Casa Rossa, l'endoscopia dei Senigalli, entro tre mesi siamo nelle condizioni, questo ci serve assolutamente. Poliombulatori di Chiaravalli, qui i lavori sono già conclusi, quindi si tratta di... e poi un'altra cosa importante per Ancona, l'Umberto I, abbiamo finamente sbloccato tutto, stanno arrivando le gare dei redi perché abbiamo concluso le gare degli redi e entro due mesi ci avremo i collaudi. Questo è l'impegno che ci stiamo prendendo. Guardate qua, tutto questo in due anni cuberà un investimento di circa 80 milioni per questa asta. Soldi che abbiamo, abbiamo già finanziato e finanziati e sui quali poi è chiaro dobbiamo adesso, sarà compito mio e responsabilità mia mettermi nelle condizioni di portare avanti di tutto quello che ci siamo detti. Però, questo lo leggo, vado veloce, questo lo leggo ai... il territorio, quello che dicevamo. Sì, abbiamo le grandi apparecchiature, quelle servono, ma a volte stiamo facendo un lavoro, se vogliamo andare sul territorio, spendendo poco e organizzandoci meglio, perché oggi, quello che ho detto all'inizio come percorso di budget che noi andremo a definire con tutte le strutture, andremo anche a dare un budget assegnato ai responsabili di distretto, che oggi avranno una responsabilità ben precisa di dover gestire i propri distretti e dovranno trovare tutti gli strumenti per facilitare questi percorsi. Allora, faccio un esempio qui. Le cure palliative. Noi abbiamo una grossa collaborazione con l'associazione di volontariato, in tutte parlo le strutture. Per quanto riguarda, per esempio, l'ospedale e la DMO, quindi, scusate, l'ADO, l'assistente domiciliare oncologica, soltanto con una donazione che ci hanno fatto di 5.000 euro, siamo nelle condizioni, perché c'era un medico, di andare a casa delle persone, poter fare le ecografie, evitare che queste persone debbano venire in ospedale e siamo nelle condizioni di, c'è un medico, quindi chiaramente l'investimento che bisogna fare, ma stiamo portandolo a bordo su tutti gli ospedali e tutti i distretti. Praticamente, con un medico e con un attrezzo di questo tipo, andiamo direttamente a casa delle persone a poter in qualche modo dargli una risposta. Questo già lo stiamo facendo per quanto riguarda l'ADO. Va davanti. C'è un altro progetto importante. C'è un altro progetto importante. Parliamo tutti quanti, a volte si riempiono la bocca con il follow-up e qualcuno veramente non sa bene neanche di cosa stiamo parlando. È nostro impegno andare a curare persone che hanno avuto queste problematiche dopo 8 anni o meno. Stiamo portando avanti un progetto che anche qui, invece di avere le persone che vanno dentro gli ospedali e sono costretti dopo i 5 anni o 6 a secondo di quelli che sono i target di ritornare in ospedale, li andiamo a vedere a casa e quindi stiamo facendo un percorso e questo a brevissimo parte perché siamo già nelle condizioni di farlo. Vado avanti ma queste sono cose che, quello che dico è perché è arrivato e sta arrivando a bordo. Non sono desiderato, tanto per essere chiari. Punti salute. Dal 19 febbraio a giugno apriremo, come eravamo il target che ci eravamo dati, 10 punti salute su tutto il territorio. A cosa servono questi punti salute? L'abbiamo ormai detto in tutte le maniere. Dobbiamo avere quindi questa prossimità, dobbiamo avere questo contatto, dobbiamo fare in modo di andare sempre più a intercettare verso i punti salute le persone e non mandarle a pronto soccorso. Però io al di là di tutto quello che conoscete bene vi dico una cosa, la piattaforma dei punti salute ci metterà nelle condizioni perché? Perché abbiamo dovuto acquisire una piattaforma per poterli attivare, per poter avere quando tu vai nell'ambulatorio con l'infermiere che ha tutta l'attività ma per avere il collegamento con anche gli specialisti, nelle condizioni di poter attivare l'ADI. Cioè noi con quella piattaforma insieme a Sirte che è un altro documento la metteremo nelle condizioni di dialogare e saremo nelle condizioni con l'ADI di poter andare direttamente a casa delle persone e se c'è bisogno avere dei consulti anche direttamente con gli specialisti. Questa è un'altra partita che a poco costo, a poche, soltanto facendolo ci mette nelle condizioni di poter dare delle risposte che per chi non si deve spostare da un posto come San Vicino probabilmente quando succede, se succede, fa la differenza. Sono arrivato, Assessore, giuro. Eccomi. Allora, l'attivazione del numero verde. Siamo partiti con il numero verde unico per tutta l'URP e questo ci mette nelle condizioni di poter avere sempre le risposte nel momento giusto ma vado avanti perché è inutile che era un messaggio. Ci tengo però a questo. Qui oggi c'è anche il responsabile della comunicazione dell'asta perché c'è una persona che tutte le mattine si occupa di andare a fare le verifiche su tutto quello che esce sui giornali, che sta qui con noi, però l'unico problema è che me le manda alle sei e mezza di mattina, però questo se sveglia presto lei e quindi ci svegliamo presto entrambi. Vediamo e cerchiamo le risposte per poter in qualche modo, se servono, e soprattutto però teniamo sotto controllo la comunicazione perché è una parte fondamentale e ci abbiamo una rubrica, vedete qua, che è Astinforma, che abbiamo attivato da circa due mesi, che tutte le settimane escono tutte le informazioni su tutti i giornali, poi qualcuno le recepisce, qualcuno no, per poter dare tutte le informazioni utili ai cittadini. Io mi scuso veramente, non vi parlo dell'atto aziendale perché ne abbiamo parlato all'inizio e quindi stiamo andando avanti, basta. Per il dono, cioè, allora, se me l'avevate data più piccola stavo sito. Allora, scusate, lo dico soprattutto ai giornalisti che sono più presenti, alcuni chiaramente dovevano raggiungere la loro redazione e così via. Probabilmente, ecco, quando ci organizziamo per il futuro, bisogna che sia una conferenza stampa, se no se vengono fuori, ecco, quindi i giornalisti che sono qui presenti, se vogliono rivolgere le domande, siamo qui per rispondere.